Nella presentazione che farò, spero di rimanere nei 30 minuti, però se supero qualcuno me lo farà capire, presenterò cosa negli ultimi anni con NetTai siamo riusciti a creare, quali sono le idee che perseguiamo e dal 2007 che siamo partiti ad usare lo strumento a proporlo sul mercato italiano primariamente e abbiamo anche partito dal 2007 con la terminologia e le idee di best practice di ITIL e le combinazioni fra sistema di monitoraggio, sistema di system management e ITIL, cosa noi come WorldPhoenix in NetTai perseguiamo. Vorrei partire con una definizione che quando anch'io personalmente ho incominciato a lavorare più intensamente con ITIL una parte molto importante è capire un servizio IT, come interpretarlo, questa è un'interpretazione, una definizione che da parte mia mi sono dato, è di mettere a disposizione agli utenti finali o ai nostri clienti dei servizi per creare dei valori aggiunti per l'utente o cliente senza che questo direttamente si debba occupare dei costi della tecnologia usata e anche del provvigionamento dei servizi stessi. Dall'altra parte l'IT service management sono competenze organizzative che attorno ai servizi IT che mettiamo a disposizione all'utente finale sono necessarie per l'erogazione qualitativamente alta. se entrambi questi aspetti sono di fondamentale importanza dal punto di vista ITIL per l'erogazione dei servizi e creare valore aggiunto. Di tutte le tematiche ITIL, se andessimo ad affrontarle nel dettaglio probabilmente non sarebbe sufficiente né 30 minuti né tutta la giornata, perciò fra tutte queste ho scelto continuous service improvements che è l'idea fondamentale, cioè di portare, di usare continuamente, cercare di migliorare la propria erogazione del servizio IT. Per riuscire a fare queste, una delle cose più importanti, una delle tematiche che mi sono rimaste impresse è che si può solo migliorare quello che è poi effettivamente anche misurabile. E per fare quello servono delle metriche che andiamo a misurare su diverse tematiche. uno può essere la base, la tecnologia dove oggi abbiamo già sentito come usare diversi strumenti open source che a sua volta sono integrati in NetEye per riuscire a misurare dei componenti sistemistici come dei server CPU, RAM, rete e così via. Abbiamo anche già sentito oggi l'idea del end-to-end service monitoring o la verifica dell'affidabilità delle prestazioni dei servizi, però nello stesso tempo è anche importante vedere come i nostri processi organizzativi vengono erogati, come velocemente siamo a mettere a disposizione nuovi servizi, quanto veloci siamo a reagire a dei disservizi o degli incident e così via. Anche tenendo sempre a mente che un incident non è soltanto un servizio che non funzioni più, ma anche se la qualità del servizio stesso degradi e sia insufficiente nell'utilizzo dell'utente finale. Dall'altra parte dobbiamo anche tenere a mente che il business continua a cambiare, le aziende adattano il business al proprio mercato e nello stesso tempo anche tutti i servizi IT devono venire adattati alle nuove esigenze requisite da parte del business. Tutti questi valori espressi in queste metriche possono e secondo noi sono utili per adattare i servizi e tenere sotto d'occhio e misurare ognuno di questi. Non si può essere il numero uno nella tecnologia ad avere i numeri più dettagliati sulle componenti e sulle sistemisti a livello sistemistico, ma non avere nessun tipo di informazione a livello di servizio o a livello organizzativo. Andiamo a vedere più in concreto che cosa dal punto di vista tecnologico con Netta siamo in grado a mettere a disposizione dal punto di vista affidabilità, dal punto di vista realiability e dal punto di vista prestazionale. questo è un disegno che dovrebbe rendere l'idea da tutte le componenti che fra di loro ad oggi in qualche maniera sono usate, integrate fra di loro le dipendenze che si creano per erogare dei servizi IT che possono essere il servizio, non so se tutti quanti lo condividono, però ad oggi uno dei servizi più importanti nelle aziende, uno potrebbe pensare al sistema ERP, però lavoro da 15 anni e devo dire che sento più lamentele se il servizio email non funzioni, che sia il servizio ERP avere dei degradi. indipendentemente da quello con Nagios o con sistemi di monitoraggio basati su Nagios si parte moltissimo dell'infrastruttura base, anche molto importante tenere a mente che l'environment dove i nostri server siano collocati, siano anche sotto controllo, che vuol dire tutte le facility, temperatura, umidità, acqua e così via, lo stesso consumo energetico è un valore molto importante da tenere ad hoc ed oggi siamo anche tutti fieri di orientarci verso il green IT, perciò ancora di più un valore da tenere a mente. Tutto questo poi legato fra i vari servizi CRM, ERP, mail e così via per arrivare all'utente finale. Parliamo spesso di service level agreements, che il service level manager nella terminologia IT, o nelle best practice, sono il contratto che viene stipulato fra il dipartimento IT e i vari dipartimenti aziendali. Questi service level agreements sono importanti farli sui host? Io non credo. Non credo che un dipartimento IT si metta a discutere di quanto host o di quanta CPU o di quanta RAM forse in certi casi servono. dal punto di vista utente, quello che è molto importante sono poi anche la velocità e l'affredibilità dei servizi, che sono poi quei valori che vogliamo controllare. Già oggi abbiamo sentito real user monitoring ed è una parte di cui poi andrò più nel dettaglio su cosa ci stiamo orientando noi. Partendo dalla base, system monitoring, è già stato detto molto, tutte le possibilità di Nagios, NetEye è un sistema basato su Nagios, usa o mette a disposizione la possibilità di usare gli oltre 2500 plugins a disposizione nella community per fare il monitoraggio di diversi sistemi nei nostri ambienti in maniera eterogenea. Perciò ci possiamo immaginare che di soluzioni per tenere sotto controllo un sistema Microsoft, un sistema SharePoint, un sistema Storage, un hardware, troveremo le giuste risposte e le possiamo usare per avere un controllo dal punto di vista sistemistico. Per creare alla fine anche i grafici o per avere dei risultati dal punto di vista utilizzo di performance, utilizzo di risorse, avere dei risultati di questo tipo, in NetEye vi è integrato il PNP Graphs, anche uno strumento open source, di cui oggi abbiamo già sentito nominare, basato sugli RRD e questo ci permette di capire nell'arco del tempo sia a livello tecnologico siamo sempre, a livello CPU, a livello di applicativo come può essere l'exchange, in questo caso dall'exchange server ho proprio preso i grafici del latency anche per trasmettere un po' l'idea che l'erogazione del servizio, la velocità dell'erogazione del servizio verso l'utente finale è molto importante e si possono verificare anche questi tipi di valori. Come ho messo l'NTP Pierce, la sincronizzazione dell'ora fra i vari sistemi in uso, che anche questo si parla sempre poco, però lo ritengo un fattore molto importante, che siamo sicuri che il tempo di tutti i database, tutti gli applicativi per la sincronizzazione del tempo è fondamentale, è un valore molto importante da tenere sotto controllo. Questo è una delle cose più importanti se parliamo di affidabilità, di availability a livello di servizi, se andiamo a fare degli availability reports, e anche qua abbiamo già sentito diverse idee, diverse opinioni, che avere l'avvailability del 100% su un host, su un sistema e così via, è interessante però alla fine quello che ci preme è averlo a livello utente finale o a livello di utilizzatore finale. Per quello importante la correlazione e l'aggregazione degli alert che vengono generati dal sistema di monitoraggio, in questo caso Nagios, è la possibilità di poter definire delle regole come queste vengono interpretate e collegate fra di loro. Se poi andiamo a fare un availability report dopo la correlazione, vedremo che raggiungere un 99% è un attimino più difficile che averlo sul singolo host. Avendo poi le due viste, e se in ITIL, availability management, parliamo di reportistica a livello di business oriented reports o component oriented reports, vediamo che possiamo fare delle statistiche availability sulle singole componenti, come possiamo fare dei reports di availability sul servizio stesso che alla fine in questo caso è espresso a sua sinistra con l'image service che è ok. Qua vediamo delle casistiche dove abbiamo un cluster in failover, chiaramente a livello di servizio in cluster automatico in failover non ha un impatto di non funzionamento, lì ritroveremo comunque la statistica o il servizio che ci funzioni, comunque se andiamo a vedere poi a livello componentistico tecnologico riusciamo anche a scoprire dove eventualmente abbiamo dei punti deboli nella nostra infrastruttura IT. In questo slide vi è anche collocato il real user monitoring che è un aspetto aggiuntivo al monitoraggio a livello infrastrutturale o a livello di rete che aggiunge ancora un'ulteriore informazione se effettivamente l'applicazione risponde nelle modalità, nella velocità richiesta dall'utente finale. Che significa? In questo caso, se ricordate l'inizio cos'è un incident, non è solo funziona o non funziona, ma effettivamente se le prestazioni del servizio che andiamo ad erogare risponde anche nella qualità voluta e anche questo aspetto tenerne conto a livello di erogazione del servizio e di monitoraggio del servizio stesso. Andiamo più verso la rete, anche lì diversi strumenti open source a disposizione partendo da Cacti dove oggi avremo ancora una presentazione perciò non mi sono fermo, lo stesso Nedi che quest'anno è anche integrato in NetEye, anche qui avremo ancora una presentazione oggi. NFSN, uno strumento che usiamo come NetFlow Collector, poi dopo faccio vedere una slide più dettagliata. L'SNMP Trap Handler, uno strumento che abbiamo sviluppato come Wurt Phoenix per essere in grado di gestire i traps SNMP in infrastrutture molto grande con la dovuta velocità cercando di non avere una configurazione troppo complessa. Vuol dire che c'è la base, una rule engine che ci permette di associare i trap in maniera veloce ed efficiente a dei service checks di Nagios. Da punto di vista di rete possiamo andare ad analizzare diversi aspetti partendo dalla latenza, dalla banda veramente messa a disposizione dal provider, dal traffico in outbound che effettivamente viene messo a disposizione per poi andare in livello di dettaglio maggiore nell'utilizzo di NetFlow e le tecnologie di Entop. In questo caso ho rappresentato la combinazione e la cooperazione che abbiamo in piedi con Entop per riuscire ad andare oltre i picchi di traffico ma anche a capire quale tipo di applicazioni causano quale molle di traffico nella propria rete. Questi sono le tre grafici espressi, diciamo si ha una prima impressione della qualità in una wide area network della propria rete, la latenza quanto veloce risponde la mia rete sulla parte wide area, quanto viene usata e se la banda effettivamente quella che ho a disposizione che in questo caso viene misurata, non è un valore letto da un router o da qualche parte ma una misurazione della banda vera e propria, che va fatta in maniera opportuna altrimenti me la uso troppo con lo strumento di monitoraggio. Già questi valori ci indicano un buono stato, un buon livello. Comunque se ho degli picchi nella propria rete vorrei anche sapere e capire da quale applicazione è determinato. In questo caso usiamo N-Prop come prop di rete che ci analizza il traffico di rete, ci calcola NetFlow e ci spedisce i dati con NetFlow a questo strumento che è NFSN che è un collettore NetFlow su NetApp che ci permette di raccogliere tutte le informazioni in NetFlow e poi di fare delle analisi ulteriormente dettagliate. Questo strumento ci permette di creare delle aggregazioni di protocolli, porte TCP, porte UDP, indirizzi IP e così via, chi ha già usato Wireshark, le regole e i filtri che si possono mettere nello strumento sono più o meno similari. E questo ci permette in segmenti di rete o VLAN o sottorete e così via anche di creare delle viste, dei grafici a livello applicativo, potremmo aggregare le informazioni a livello IP o a livello IP più porte per dire questo è il mio portale SharePoint, questo è il mio portale o applicativo JBoss o Tomcat o via di essere. E così è vero, viste, dettagliate a livello applicativo o sullo stesso Active Directory o email. E questa è un'informazione molto importante anche da una parte per fare il sizing, dall'altra parte per vedere come la propria rete a livello applicativo viene usata. Lo strumento permette anche di integrare degli alerts, che vuol dire i flussi di netflow che vengono spediti a NetEye, si possono definire degli alerts che reagiscono in base, la cosa più banale è uno stream. Se qualcuno o nella propria rete vengono fatti dei downloads di stream attraverso dei sites, si possono definire dei semplici alerts che generano un warning o un critical che a sua volta viene integrato con Argos per capire che negli ultimi 10 minuti o da 20 minuti c'è questa tipologia di traffico. Chi volesse con questo strumento identificare Skype, BitTorrent o così via diventa già un attimino più complesso che l'utilizzo della rete è diverso da dei semplici stream. Comunque lo strumento permette già in una veloce implementazione di avere un dettaglio a livello applicativo usando un netflow e anche avere una vista con i dati che vengono aggregati in dei database RRD che a sua volta ci permette a livello applicativo di vedere lo storico di oltre un anno come la propria rete viene usata. Andiamo più dalla tecnologia verso monitoraggio dei servizi, end-to-end service monitoring, gli aspetti da considerare sono sempre le medesime affidabilità dei servizi prestazioni latenza. Lì andiamo verso il real user monitoring o end user experience monitoring che vuol dire capire nel proprio contesto se i servizi IT messi a disposizione sono usabili dagli utenti se le prestazioni che vengono messe a disposizione sono adeguate però dal punto di vista utente non dal punto di vista di dire dal data center io il servizio IT lo erogo ma se poi dopo all'utente gli arriva in maniera corretta o meno non è un problema mio. In questo caso si gira e si cerca di capire se effettivamente il servizio come viene usato dall'utente finale sia accettabile, le prestazioni siano quelle adeguate e via dicendo. Per riuscire ad ottenere questi risultati ci sono fondamentalmente due approcci. Uno sono dei controlli attivi che vuol dire uso dei robot con diverse tecnologie per simulare transazioni utente verso applicazioni SAP, verso applicazioni web e via dicendo o un altro approccio può essere analizzare il traffico di rete e capire dal traffico di rete applicativo quanto effettivamente l'utente finale usufruisca un servizio buono nei tempi di risposta delle applicazioni. Poi dopo vado un attimo più nel dettaglio. Un piccolo escursus nel cloud. Oggi facevo uno scherzo con un amico. Che cosa succede se cerco di toccare con la mano la cloud? Non ho niente in mano. Scusatemi la battuta. Nel mondo del cloud i servizi IT diventano sempre più importanti. Possono essere combinazioni fra Salesforce, Amazon o diverso tipo e se ci immaginiamo un data center prima dove decido di mettere in cloud diversi servizi IT, uno può pensare ma monitoraggio serve ancora. È ancora importante tenere sotto controllo i servizi ma non me lo fa già il cloud service provider. Dal nostro punto di vista questo tipo di aspetto grazie o con l'avvenire del cloud diventa ancora più importante perché ci possiamo immaginare che si decide di mettere dei sistemi in Amazon, si può decidere di avere dei sistemi da altri cloud service provider come usare dei servizi tipo Salesforce.com. Comunque avremo la situazione che questi servizi dovranno interagire in qualche maniera, dovranno comunicare in qualche maniera e alla fine sarà sempre l'utente finale che in maniera trasparente li utilizza. E alla fine quell'utente come responsabile IT non possiamo semplicemente risponderli. Se il servizio non è adeguato ti puoi rivolgere a Amazon se questo non funziona e così via. Saremmo sempre noi che dobbiamo cercare di capire se il servizio erogato all'utente finale non è qualitativamente buono, se dipende dalla propria rete, se dipende dal proprio proxy server, dal load balancer, dal firewall o se dipende dal service provider A, B o C. Per il real user monitoring, avendo diversi approcci, alcuni li abbiamo già sentiti oggi, la simulazione di transazione utente finale si può realizzare dentro Netta con diversi strumenti agganciati, quello più semplice, Web Inject, uno strumento che simula tramite dei descrittori XML che in Netta ci sono delle applicazioni web che permettono di descrivere le transazioni, di simulare semplicemente una navigazione di un servizio web. Il risultato che si ottiene è il servizio web funziona o non funziona, il servizio web i tempi che rispondono e le transazioni che si possono fare sono di diverso tipo, navigazioni, action e così via, e misurare anche il risultato di tali. Dove si va più nel dettaglio? Gli strumenti, uno l'abbiamo già sentito oggi, Wattier Web Drive, l'altro potrebbe essere Selenium HQ, Selenium HQ viene più dal mondo di quality assurance per applicazioni web, ci permette di scrivere ancora più nel dettaglio, soprattutto nel mondo dove vengono usati molto JavaScript, molte applicazioni AJAX, di andare a fare dei test case molto più complessi per capire se effettivamente l'applicazione web funzioni a dovere. Ritengo anche abbastanza importante, anche se usiamo molto, e oggi parliamo molto di open source, anche avere l'apertura verso dei prodotti commerciali dove alla fine quello che conta è il risultato, e di avere un risultato dal punto di vista monitoraggio, abbiamo anche intrapreso una cooperazione con uno strumento di nome virtual user che permette di fare questi tipi di test automatici o di robot a livello di applicazioni Windows, per esempio, o Citrix, poter eseguire dei test case con delle applicazioni erogate da Citrix, che vuol dire riesco a capire e misurare se il mio applicativo che ho messo a disposizione tramite una Citrix farm mi funzioni, i tempi di risposta e così via. Lo stesso vale per il terminal server o se andiamo a pensare nel mondo web, flash o anche java applets, comunque strumenti che sono in uso. Sull'application latency monitoring è dove noi abbiamo investito maggiormente per riuscire a fare del monitoraggio a livello passivo delle comunicazioni applicative, in questo caso più concreto di applicazioni HTTP. Due valori importanti da ricavare, il network latency e l'application server latency. Questo è un esempio o un'idea con il quale si può esprimere che l'utente per riuscire a sfruttare dei servizi le latenze in diverse aree dal punto di vista infrastrutturale, le comunicazioni necessarie. A livello sistemistico ci sono già diversi contatori che si possono sfruttare, tenere sotto controllo per vedere questi tipi di latenze, comunque quello che vorremmo ottenere è misurare le latenze sui diversi livelli e diversi strati, poi dopo con Luca e il suo intervento su ENTOP vedremo più nel dettaglio come questo tecnicamente può essere raggiunto affinché il PROP ci dia delle informazioni sulle latenze in diversi strati per riuscire a capire in questo caso non il simulatore o il robot quanto veloce effettivamente riesce a eseguire le transazioni, ma quanto effettivamente l'utente finale è veloce o non veloce ad usare delle applicazioni web. E questo è un po' quello che sta nel nome real, che nel nostro contesto vuol dire il reale misurazione dell'utente che cosa sta facendo in quel momento e quanto veloce rispondono i sistemi a quell'utente che sta a Roma o all'utente che sta a Milano o all'utente che sta a Firenze. Valori che si riescono a ricavare, che poi dopo andremo anche a vedere più nel dettaglio, client network latency, server network latency, application server latency, stiamo lavorando e abbiamo anche raggiunto un primo risultato per capire effettivamente quando l'utente vede la pagina web sul suo browser erogato, che vuol dire se alcuni pezzi vengono caricati, quanto effettivamente lui le informazioni comunque verso il browser sono state consegnate. E anche dal punto di vista qualitativo della rete, che vuol dire a livello applicativo per quell'utente quante TCP retransmission o quanti fragmentazioni o quanti bytes o pacchetti vengono trasmessi. Questo è un veloce esempio di come si riesce ad ottenere dalla propria infrastruttura questi tipi di informazioni, è un scenario di deployment dove in questo caso il probe lo mettiamo molto vicino al server dove viene erogato il servizio, se adesso andiamo a pensare al private cloud potrebbe essere interessante per chi eroga il private cloud di capire quanto velocemente eroga i propri servizi verso l'utente finale e quanto la rete o l'application server impatta sul servizio. Se il probe lo posizioniamo al di fuori del cloud potremmo vedere quanto velocemente una terza parte di cloud ci risponde, questo come idea. velocemente come l'idea di monitoraggio dietro questo tipo di approccio vuol dire che cerchiamo in un determinato tempo di lasciare girare i sistemi in un ambiente normale dove i tempi di risposta siano buoni, riuscire a calcolare una baseline e da quella baseline in avanti capire le deviazioni in forma di percentuale che vuol dire i sistemi per la zona verso Milano o verso Trento o chi per essi i tempi di risposta della rete stanno in proporzione rallentando a come era il calco della baseline. E questo riuscire a capirlo per utente, per sottorete, per applicativo e questo ci aiuta a capire ma le prestazioni sono lente per motivi di rete, sono lenti per motivi applicativi e se sono lenti per motivi applicativi di quale URL è quella che rallenta il tutto o è effettivamente un pezzo di rete che ci sta creando questo tipo di rallentamento. Questo è un sistema di baseline calcolato e di generazioni di warning, critical e così via dinamico. L'idea è di crearlo dinamico, di crearlo intelligente affinché i milioni di transazioni che 3.000 o 5.000 utenti possono creare sia anche abbastanza intelligente da lavorare in questa maniera. Questi sono degli esempi applicativi che poi dopo andremo anche a vedere in una prossima presentazione e li passo più velocemente. Questo può essere un altro risultato interessante che possiamo ottenere dell'inventory asset management, abbiamo già parlato. In questo caso vediamo dal PROP i dati che ricava dalla reale comunicazione e del browser o del sistema operativo che l'utente usa. Vorrei più soffermarmi sul browser dove vediamo che grazie allo sviluppo veloce di diversi browser, oramai nella propria rete troviamo di tutto e diverse tipologie e versioni di browser che vengono usati. Anche questo per chi mette a disposizione applicazioni web che poi vengono usati dall'utente finale come browser in questo caso riusciamo a capire qual è il vero browser che usa anche se l'utente potesse aver installato Firefox, Chrome, Internet Explorer e dal punto di vista inventario asset management lo vediamo. Queste informazioni sono il browser che per questo tipo di applicazione sta effettivamente usando. lo stesso vale per il contenuto analizzando il traffico reale dell'utente che passa sulla rete si possono ricavare delle altre informazioni a livello di HTTP quanti errori o quante comunicazioni positive ho e anche questo chiaramente avendo questo tipo di informazione si può lavorare all'ottimizzazione del proprio applicativo web come a livello contenuto posso capire che tipologie di contenuti vengono erogati attraverso il proprio sistema. Queste sono delle statistiche che poi dopo vengono calcolate in base a queste informazioni sempre a livello di applicativo anche questo andremo a vederlo nella presentazione di un contesto più reale. Come ultimo, che avevamo tre aspetti, tecnologia, servizi e sono anche importanti i processi IT, andiamo a vedere dal punto di vista IT service management l'importanza di avere sotto controllo e di avere un'organizzazione che permette anche ai servizi IT a livello organizzativo di sopportarli in maniera opportuna. Lì delle metriche possono essere la raggiungibilità del proprio service desk se vuol dire che l'utente riesce anche a raggiungere nella propria organizzazione qualcuno e gli può segnalare l'incident o lo può aiutare. I tempi di risposta delle soluzioni i numeri di incident o problem che vengono segnalati che gravità hanno, quanti io ho maggior, quanto hanno mali e così via o quanti di questi incident posso anche rispondere grazie al mio knowledge base che può essere molto interessante per capire la qualità che nel proprio incident, processo di incident management o nel mio knowledge base a dare delle risposte veloci. Strumenti usati per lavorare a questo livello una a una parte OTRS come strumento di ticketing SMDB orientato ad ITIL per quello che riguarda il rilevamento di assetti, software e hardware la combinazione GG, LPI e OCS Inventory a bordo a NetEye integrati fra dei loro per poter usare questi strumenti out of the box per avere un quadro completo dei propri asset e anche un aiuto a livello di license management. Come ultimo, grazie ad un progetto è stato creato uno strumento in NetEye che abbiamo chiamato Action Launchpad che permette al service desk di eseguire dei comandi tramite l'infrastruttura di monitoraggio in maniera sicura, mirata e protegge in questo caso sia l'esecuzione del comando dove non si può sbagliare non deve fare un SSH o collegarsi a dei sistemi rimoti ma tramite l'interfaccia web di NetEye può eseguire questi comandi che può essere controllo di stampanti re-enable degli stampanti che si sono messi su disable come può essere un reboot di un server dipende da quali comandi si mettono a disposizione. Questa come idea l'integrazione poi a livello di processi se ho un sistema di monitoraggio che mi genera degli alerts devo anche fare qualcosa non mi serve avere l'alert che sta in una mail o sta da qualche parte vorrei anche capire quanto velocemente la propria organizzazione reagisce in base a questi alerts. Questo è un scenario di workflow in base ad un alert del sistema di monitoraggio NetEye dove al momento dell'acknowledge all'alert che vuol dire adesso qualcuno nella mia propria organizzazione si mette a lavorare su questo incident crea automaticamente un ticket nel sistema OTRS dove poi dopo posso misurare la velocità di risoluzione di questo incident e che cosa effettivamente è stato fatto. A sua volta le informazioni possono essere collegate con un CMDB di OTRS che a sua volta mette a disposizione le informazioni come CI che possono essere collegate con l'asset management GLAPI dove si scaricano i dati e vengono sincronizzati col CMDB di OTRS. Questo può essere un possibile scenario di combinazione di incident management problem management e diverse fonti per creare dei ticket uno è lo strumento di monitoraggio un altro può essere un sms un altro può essere un email e un'interfaccia web. Avendo le organizzazioni fra primo livello, secondo livello, terzo livello e service desk diversi punti di vista di escalazioni nel processo di incident management e non spostando i ticket nel caso di OTRS di coda ma creando dei ticket figli e collegandoli fra di loro ecco che potrei riuscire a misurare ogni singolo step nella mia propria organizzazione quanto velocemente reagisce un primo livello quanto velocemente reagisce un secondo livello al primo livello e via dicendo. Dal mondo di incident management si può anche pensare o va fatto la creazione di un ticket problem che a sua volta persegue la stessa strada così ho la possibilità di verificare la velocità dei processi di incident management o i KPI per incident management come a sua volta i KPI per il problem management e tenere organizzativamente i due processi divisi anche se in alcuni casi potrebbero essere le stesse persone a lavorare su un incident come su un problem. Questo organizzato usando lo strumento OTRS in maniera opportuna nelle singole fasi nei singoli step si possono poi calcolare ricavare dal database i KPI per misurare la propria organizzazione ed usare di OTRS gli FAQ come knowledge base per riuscire anche a dare delle risposte in maniera più veloce e riuscire a capire quanto le uso quanto è buona sono le FAQ che ho nel mio database o quanto effettivamente devo andare ad analizzare l'incident e ho dei tempi di risposta lunghi. Come ultimo anche se qua non si vede proprio bene NetA è uno strumento che racchiude e riassume come piattaforma diversi strumenti open source per riuscire ad ottenere risultati risposte a diverse aree dal monitoraggio infrastrutturale dal monitoraggio di servizi come anche a livello di monitoraggio di processi ITIL e con questo vorrei anche concludere il mio intervento sono a disposizione per domande adesso come anche dopo che giro ancora qua senza problemi potete venire da me e informarvi su certe tematiche vi ringrazio per l'attenzione ci sono domande per Georg in a so you can recalculate the baseline which is the thresholds which are moving it depends on the real reaction of the user so it's something dynamic which are changing over the time and also the threshold are changeable because they are relative to the baseline then in cases you can define min max values because you have peaks on application and these peaks has to be handled in a certain way this is not normal usage if you have a report which is 10 seconds so this has to be handled in a different way as a normal action against a web application thank you no more questions no more questions ok thank you Georg thank you thank you thank you Grazie.